Partiamo da alcuni dati. Secondo l'ultimo Global Gender Gap Report del World Economic Forum ci vorrà oltre un secolo per superare le diseguaglianze tra donne e uomini. Diseguaglianze purtroppo lo sappiamo che sono state esacerbate dalla pandemia che ha reso più gravoso l'onere di cura sulle donne e ha finito per colpire soprattutto quei settori ad alto tasso di partecipazione alla forza lavoro femminile. Ecco ne parliamo con gli ospiti di questa tavola rotonda. Do il benvenuto e chiamo qui sul palco Cristina Mazzurana, Managing Director Financial Intermediaries e membro del Comitato Diversity and Inclusion di Capital Group. Benvenuta dottorista. Grazie mille, buongiorno a tutti, ben trovati. E do il benvenuto e invito qui sul palco anche Federico Domenichini, Adobe Advisory di Tiro Price. Benvenuto dottor Domenichini. Buongiorno a tutti. Grazie mille per essere qui con noi. Grazie a voi. Parlavamo quindi di consulenza. Domenichini, ci sono delle specificità di cui è bene tenere conto quando si parla quindi di una cliente al femminile in termini proprio di approccio nella relazione tra consulente e cliente e servono quindi delle competenze specifiche. Pensavo anche a delle soft skill. Sì, assolutamente. La domanda è a mio avviso molto corretta e riprendo un po' il punto dell'importanza del mondo della consulenza verso le donne. Sicuramente dobbiamo partire da un dato di partenza che ovviamente in Italia la maggioranza dei consulenti finanziari sono uomini che però si approcciano a un mondo che è più misto, quindi fatto più o meno per metà, anzi in realtà è il leggerissimo vantaggio il mondo femminile. Sicuramente una caratteristica cruciale che si vede nel mondo femminile è il tema della fiducia. Quello che abbiamo visto in tutti i vari studi che abbiamo fatto sia in Italia anche negli Stati Uniti è che le donne tendono a metterci di più ad avere fiducia di una persona o quindi in qualche modo del consulente finanziario ma che poi una volta che uno ha ottenuto quella fiducia rimane per più tempo. Questa è una caratteristica molto importante e deve far riflettere anche i consulenti finanziari. La fiducia poi si abbina a due concetti a nostro avviso molto importanti. Da un lato è l'educazione e dall'altro è la comunicazione. Quindi la fiducia si trasmette in qualche modo con un approccio di educazione finanziaria anche di lungo termine e dall'altro di una comunicazione molto diretta, schietta, onesta e trasparente. Questo nel mondo maschile sono logiche anche leggermente diverse. E poi cambia anche spesso la modalità con cui spesso si investe. Sono andato a vedere il nostro studio sul mondo femminile e maschile, su dove le donne preferivano investire o meno. Innanzitutto si nota che il tema della sostenibilità nel mondo femminile è più seguito, quindi c'è più attenzione al tema della sostenibilità. Non solamente il fondo sostenibile ma anche l'azienda che gestisce quelle strategie come è sostenibile, perché spesso ci limitiamo a parlare di sostenibilità solamente quando parliamo della mera strategia. Poi l'altra caratteristica che mi incuriosisce è che ci sono delle storie di investimento che sono diciamo più attrattive per le donne e molto meno per gli uomini. Ci sono addirittura gli studi negli Stati Uniti che fanno vedere delle aziende più preferite dagli uomini come stock e delle aziende più preferite dalle donne. E mi ha molto incuriosito in un recente sondaggio che faceva vedere la percentuale di donne che autoacquistano e il percentuale di uomini che autoacquistano. Il 98 per cento degli uomini vorrebbe acquistare una Ferrari, mentre le donne è minoritario. Il brand che ha maggiore preferenza nel mondo femminile è la Mini. Questo è un esempio banale ma come certe caratteristiche anche nella scelta di investimento possono modificare tanto l'approccio che i consulenti devono avere ovviamente con le donne. C'è poi un altro aspetto da considerare, il fatto che le donne godano di fatto di un'aspettativa di vita più lunga rispetto agli uomini. Domenichini, quest'altro aspetto invece come incide sul percorso di consulenza e quindi come affrontare quello che può essere definito il nodo longeviti? Innanzitutto diciamo più o meno il numero quanto è, circa 5 anni, quindi le donne sono più longevi agli uomini di circa 5 anni, che sembra poco ma in realtà se preso sui grandi numeri è un numero piuttosto alto. Allora il tema della longevità è un tema innanzitutto che dovrebbe essere preso con grande attenzione da parte dei consulenti perché è molto probabile, io lo chiamo effetto baby boomers, che i consulenti nei prossimi 10 anni avranno a che fare con più probabilità con più donne rispetto a più uomini, perché se ci siamo detti tante volte che la maggior parte della ricchezza oggi nel mondo sviluppato è detenuto dai baby boomers, ovviamente essendo un tema di longevità avranno a che fare con la moglie di o la figlia di quel baby boomers che in qualche modo deteneva la ricchezza. E questo è un aspetto cruciale perché ovviamente se il consulente finanziario aveva prima probabilmente al centro l'uomo che era cresciuto con quel mindset molto maschile in anni molto diversi, improvvisamente si potrebbe trovare un punto di riferimento che detene quella ricchezza che ha un background culturale completamente diverso e quindi questo potrebbe essere anche spiazzante. Noi nel nostro programma che si chiama Tiro Price Advisor Mastermind abbiamo fatto pure delle stime e che cito, magari qualcuno le conoscerà perché le abbiamo rilasciate l'anno scorso, in America il 90% degli eredi cambia intermediario finanziario al passaggio generazionale. In Italia questo numero è comunque alto, è il 50% ed è in aumento post pandemia perché ovviamente la pandemia è stata un'occasione per affare questi meccanismi di accelerazione e quindi per il consulente secondo me è fondamentale riflettere come sta interagendo con la coppia anche in essere uomo-donna baby boomers perché spesso succede che anche l'uomo e i boomers non vuole far avvicinare la moglie al consulente finanziario, è un ostacolo questo no? Però l'obiettivo che oggi sfido il consulente finanziario a fare è provare a fare una serie di attività per coinvolgere anche l'altra parte della coppia alla decisione finanziaria perché poi statisticamente avrà a che fare molto probabilmente con la moglie e quindi no se non ci credete perché non volete credere ai miei numeri fatelo per un mero interesse anche di lungo periodo del vostro portafoglio. Perfetto, Domenichini un'ultima domanda tirando un po' le somme di quello che ci siamo raccontati, come dovrebbe cambiare l'approccio di un consulente se per esempio si trattasse di una donna in carriera di 30 anni oppure di un over 60? Questa è una delle grandi sfide secondo me del private banking e della consulenza finanziaria in generale, innanzitutto riflettere sul fatto che il mondo femminile ha di fronte a sé delle sfide spesso leggermente diverse al mondo maschile, basti pensare al tema della maternità, basti pensare al tema della vedovanza inteso come probabilità che il suo marito non vivrà quanto la moglie, quindi ha ad affrontare alcuni temi, il tema della disoccupazione, il tema del tasso di occupazione femminile, quindi questi temi andrebbero messi in un piano finanziario e se si guarda gli studi il mondo femminile è molto più attento alla pianificazione finanziaria di lungo periodo, questo forse sono dei retaggi antichi, millenari di come era fatta la famiglia non secoli fa ma millenni fa ma però questo ci dice che le donne sono molto più attenti a un'applicazione di lungo periodo. Pianificazione che se guardiamo i dati della Consob durante l'ultima ricerca ci dice che ancora quasi due terzi di italiani non fa correttamente una pianificazione finanziaria, quindi questo è a mio avviso la prima grande super sfida che il consulente finanziario ha e poi c'è anche il dato puramente formale che otto donne su dieci rimarranno da sole e quindi avere un consulente o una consulente di riferimento sarà cruciale. Ultimo punto che potrei aprire il vaso di Pandora è il tema del mondo assicurativo, ovvero che in Italia mediamente le famiglie italiane sono sotto assicurate, dovrebbero assicurarsi di più e meglio e in un contesto in cui la donna potrebbe rimanere da sola o affronterà dei periodi come la maternità, purtroppo in Italia molto complessi, avere delle garanzie assicurative nel long term potrebbero essere sicuramente determinanti per anche una pianificazione più efficace ed efficiente. Perfetto, abbiamo offerto un bel po' di spunti di riflessione ai nostri ascoltatori, ecco io ringrazio ancora Federico Domenichini e Dov Advisory di Tiro Price. Grazie mille a tutti voi. E Cristina Mazzurana, Managing Director Financial Intermediaries e membro del Comitato Diversity and Inclusion di Capital Group. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie mille a tutti.